Caterina da Siena Caterina di Jacopo di Benincasa conosciuta come Caterina da Siena 1347-1380 religiosa, teologa, filosofa e mistica italiana venerata come santa canonizzata da Papa Pio II eletta dottore della Chiesa da Papa Paolo VI in Pensieri e Sentenze dice Se l'animo nostro non è spogliato di ogni amor proprio e piacere del mondo non può mai pervenire a questo vero e perfetto amore e legame di carità però che è contrario l'uno amore all'altro e tanto è contrario che l'amor proprio ti separa da Dio e dal prossimo e quello ti unisce questo ti dà morte e quello vita questo tenebre e quello lume questo guerra e quello pace questo ti stringe il cuore che non vi capi né tu né il prossimo e la divina carità il di larga riunendo in sé amici e nemici e ogni creatura che ha in sé ragione commento molti evoluti sia religiosi e sia laici sono giunti a concepire la progressiva spersonalizzazione come passaggio obbligato per l'abbandono definitivo del ciclo delle nascite e delle morti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti